Scende il gradimento del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, cala anche quello del governatore della regione toscana Eugenio Giani. A dirlo è la classifica curata ogni anno dal sole 24 ore. Il primo cittadino di Arezzo nella gradatoria si attesta infatti al 56esimo posto in un testa-testa col sindaco di Perugia. Nel 2021 si era piazzato al 52esimo posto con un gradimento del 53,5%, mentre adesso è al 51,5%. Nell'ottobre 2020, infine, al ballottaggio era al 54,5%. A livello toscano, Ghinelli si conferma al quinto posto rispetto agli altri sindaci della regione. La classifica del sole 24 ore è tra 78 primi cittadini, restano esclusi quelli appena eletti nella tornata dello scorso 12 giugno. La vetta della classifica è guidata dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, seguito da Marco Fioravanti di Ascoli Piceno e da Antonio De Caro di Bari. Il fondo classifica è invece toscano con Luigi De Mossi di Siena. Eugenio Gianni, presidente della regione toscana, è nella metà inferiore della classifica, si trova al decimo posto su 18. È il 46% del gradimento in discesa di tre punti, visto che nella rilevazione precedente era il 49%. In questo caso, in cima alla classifica, c'è Luca Zaglia del Veneto, che tiene il primo posto, nonostante la perdita di 4 punti percettuali rispetto al 2021.